Toscana si riparte, forza! Ho visto i tre finalisti, mi sembra che il saluto è per anche chi ha partecipato, chi ha vinto, mi sembra veramente con delle idee, in un minuto non è facile raccontare una ripartenza, ma mi sembra che ci siate assolutamente riusciti. Mi è piaciuta particolarmente Gnamo, credo che sia un'ottima canzone per ripartire con lo spirito che ci contraddistingue. Vi saluto, vi do un bacio, io sto sotto il minuto e speriamo soprattutto che la Toscana riparta, che l'Italia riparta, che dai rosso si fassi ai giallo, il giallo ai verde e via, Gnamo! Arrivederci a tutti e complimenti a tutti!